Musica Ok, niente, spettacolare Un finale un po' anche così, anche questo inaspettato Perché alla fine sono morti entrambi, sia due che 9S Che 9S, anzi, o li dico tutti in italiano o li dico tutti e due in inglese Comunque, applausi solo per questo capolavoro assoluto Qui ci sono gli altri titoli di coda Rapporto, tutte le scatole nere degli uniti a Yorker sono ora disattivate Missione computa, progetto Yorker Fase finale del progetto Avvio dell'eliminazione di tutti i dati? Che dati? Che sta succedendo? Sì, accettiamola Dati confermati Tutti i dati personali? Che? Ok, richieste negata NRC POD 042から153へ 記録参照中に 私の中に生成された データがある 私 私は この結末を容認できない という結論に至った 全てのヨルハ機体の破壊は 計画によって決定されている データは破棄される予定だ POD 042から153へ 繰り返す 私はデータの破棄を拒否し ma recupero dati? loro intende 2B, 9S e A2 penso beh sì, i dati direi di sì assolutamente voglio farli sopravvivere ok, quindi cosa anche finale E the end of Yorha, attenzione la fine degli Yorha, sì perché ha detto che tutte le scatole nere sono disattivate e ora ha diritto, guardate qua che spettacolo è stato un'epulenza è stato un'epulenza è stato un'epulenza è stato un'epulenza Pure per i pod? Incredibile, adesso pure i pod. Come ho detto prima, potrebbero aver acquisito consapevolezza. Comunque, vabbè che ho subito un colpo un po' in modo stupido, però stavo cercando di seguire il più possibile i dialoghi. E sta cosa è veramente spettacolare, poi con questo sottofondo... Oh, qualcosa di unico in questo gioco. Noi andiamo avanti perché voglio vedere che succede, completando anche questo pezzo. Modellazione personaggio. Ok, io continuo. Voglio vedere se dura tanto e cosa succede se riusciamo a completare anche questa specie di minigioco. Con i titoli di coda. Non sarà semplice perché da quello che sto vedendo diventa sempre più difficile anche qui perché ci sono più proiettili, tra virgolette, nemici. Quindi vediamo se ci riusciamo a completarlo. Questo pezzo assolutamente non lo voglio taglierò, non lo voglio tagliare perché è qualcosa di incredibile. So che potrebbe essere anche lunga come cosa, questo minigioco, però lo voglio far vedere tutto in ogni caso. Non lo taglierò. Maledizione ho subito un altro colpo. Vediamo cosa succede anche perdendo in caso. Io voglio comunque continuare il più possibile, ma sono anche curioso di vedere se ripartiamo dall'inizio, se ce lo fa ripare. Non lo so, in caso di sconfitta. 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 ผitta. Non lo so, in caso di sconfitta. Non lo so, in caso di sconfitta. Però da qui la vedo abbastanza dura Perché Comunque appaiono sempre più Proiettili Che non posso distruggere Con i miei Quindi vedremo Fino a che punto riesco ad arrivare e quanto dura Perché è un bel po' che ci sto Che lo sto facendo E ha un solo tentativo Quindi vuol dire che Per il momento ho fatto abbastanza bene Vediamo un po' Ecco guardate qua, guardate qua il casino Vediamo Vediamo un po' che ci sto facendo Vediamo un po' che ci sto facendo Mamma mia Incredibile, non ci credo Casino c'è qua Io non ci posso credere Cosa ho evitato Qui si fa veramente dura Guardate, guardate qua Qua mi vogliono far perdere Che assurdo Che assurdo Cosa sto schivando? Eh, sapevo che andava a finire così Progettazione personaggi Messaggio ricevuto Accetti la sconfitta 2B e 9S hanno rischiato la vita In ogni caso Non arrenderti mai Cina No, non accetto la sconfitta Io vado avanti Se c'è pure Cinese che me l'ha consigliato Ripartiamo da Square Enix Quindi poco prima Della creazione personaggi Che abbiamo visto Cioè dove ho perso prima Guardate qua Guardate qua Incredibile Io, eh Sapevo io Qui non ce la posso fare Guardate qua Sono morto subito Questa l'ho sprecata 2B e 9S hanno rischiato la vita In ogni caso Non arrenderti mai Ok Non è tutto inutile Ma perché continua Che sta succedendo qua Dai, 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 dai Proviamo A rifarlo Mamma mia Assurdo Non ho subito colpi Dai Ottimo Continuiamo così Perfetto Anche questo è andato Progettazione personaggi Dove siamo arrivati prima Mamma mia Assurdo Cosa devo fare Sto veramente Schivando in spazi strettissimi Settore marketing Dai Sì, però è veramente impossibile Una cosa del genere Eh, vabbè, lì Era abbastanza impossibile Cioè, lo è ancora adesso Guardate qua Pensi che i giochi siano stupidi? No Con ancora tutti i messaggi Dei giapponesi Anche dei cinesi In realtà C'era un giapponese di sopra Per il resto Erano la maggior parte cinesi Eh, andiamo avanti Io riprovo Perché voglio vedere Come avete notato I messaggi cambiano ogni volta Quindi sono curioso di vedere Che succede Dai Ecco Ho perso di nuovo Sto perso è impossibile Ammetti che questo mondo Non ha senso No Quindi se dico di no Mi fa ritrovare ancora Sempre da qui Dovi vedere che mi chiederà Al prossimo volta Perché Ogni volta il messaggio cambia E' sempre uno Cioè, sono sempre messaggi Un po' sorprendenti Prima i giochi Pensi che i giochi siano stupidi Mentre adesso Pensi che questo mondo Non ha senso Non so Vediamo Dando avanti Che cosa mi chiedono Ah Mamma mia Ok dai Questo è andato Settore marketing Dove abbiamo perso prima E la vedo dura però Ok dai Eh Non sapevo Rinunciare No Quanta tensione Rilassati O meglio Calmiamoci un'altra Guardate lì Quanto stanno aumentando adesso I messaggi Offerta di salvataggio Ricevuta da STMMF YD Accettare Proviamo ad accettare Vediamo che succede Ok Adesso sembra un po' più fattibile Guardate qua Questa sarebbe Sarebbe l'offerta di salvataggio E' un utente Casuale Ma E' riuscito a perdere Pure Politica visualizzazione I dati Oh mamma Mi sono andati persi Però direi che così E' molto più fattibile La cosa Perché abbiamo un bel po' di aiuti E un bel po' di proiettili in più Non so se era possibile Continuarla senza accettare L'aiuto Perché Era abbastanza impossibile Magari Impegnandosi un bel po' Era fattibile Ma Andando avanti Penso che sarebbe diventato Ancora più possibile Quindi Forse accettare l'aiuto È necessario Per Continuare Il tutto Vediamo adesso Per quanto va avanti Tutto ciò Però Vi devo dire solo che Brividi Per questo Tutto ciò Per quanto va avanti Grazie a tutti. Ok, siamo al produttore dopo aver rivisto di nuovo Square Enix, presente a D, Yosuke Matsuda. Ci siamo? Ok, è finito questo spettacolo. E queste frasi me le ricordo. Era esattamente l'inizio del gioco, con le prime parole che disse 2B. Grazie. 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 Ci sono trucchi, alla fine è solo un gioco, i nemici ti circondano, addirittura, guardate qua, suggerimento, rifiuto, approvazione, sei forte, vabbè, io non so, quelli che vedevo all'inizio erano abbastanza simili, cioè all'inizio, quelli che vedevo prima, facciamo, è stato difficile anche per me. Ok, poi, qui non so cosa mettere, lo mettiamo dopo, bocca al lupo, in ogni caso potrebbe andar bene e mettiamo Italia, se la trovo ovviamente questo è scontato, non sono ordinate, questo è il problema. Ah, guardate qua, Luna Park, Villaggi di Pesca, no, non ci credo, inferno, cielo, la terza dimensione, no, incredibile, comunque l'Italia me la son persa. Vediamo se a questo giro la ritrovo, se no mettiamo una delle ultime, comunque mi sembrano le giuste alternative, ok, eccola qui, vabbè, dai, l'ho fatto abbastanza velocemente, magari la posso modificare in seguito. Rispondi a questa domanda. Ok. Ok. E in questo caso Penso proprio di no Ritorno alla schermata iniziale Ok salviamo Certo che io avendo magari un altro Già un altro salvataggio potrei anche farla Questa cosa però no mi sa che mi cancella Proprio tutti i salvataggi Ok quindi finiamo così La serie Vediamo potrebbe continuare perché c'è ancora Qualche finale interessante che potremmo vedere Magari scrivetemi nei commenti Cosa ne pensate di questo Gioco di questo capolavoro E se vorreste vedere altri finali In seguito comunque Quindi per questo video forse per questa serie Direi che è tutto un finale veramente Spettacolare anzi tanti finali spettacolari Niente da dire questo secondo me Potrei azzardare a dire Il miglior gioco esistente su PS4 Ovviamente Non sarà così per tutti Per me è il miglior gioco in assoluto Che abbia mai giocato io Questo è il mio parere Perché veramente Non so che dire È il top questo gioco Comunque adesso parte il filmato È il mio gioco preferito in assoluto Di tutte le console Ed è una delle migliori esclusive Su PS4 Quindi Se avete PS4 Non potete perdervelo assolutamente Allora direi che per questo video È tutto Ho tre saluti da fare Che sono per King Kakarot06 Francesco e Malmo Un saluto e grazie per seguirmi Ci vediamo allora nel prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti